ehi ciao ragazzi è quattro mesi che vi aspetto sono qui da solo nel mio antro cercare di capire che cosa è della musica moderna che cos'è il Gorbachev della musica moderna la 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 lo saprà forse john lennon non lo so comunque abbiamo fatto un viaggio attraverso la mia fantasia e dove sono stato sono stato dai mamacassi studio e poi cos'altro abbiamo fatto vai 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 così 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 tutte queste esperienze sono andate condensate dentro il mio album che a s*****a sarà co*****o dentro il g*****o nuovo dello s*****ale niente andate a sentirlo perché è una cosa folle è la cosa più pazza che potevamo fare l'abbiamo fatta sì 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 ma il mio ma il mio lo dovete votare il 3 12 12 diviso 4 votatemi chiamatemi datemi bacine 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 coccole carezie